Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati, buon martedì. Oggi doppio video. Il primo sarà un po' più veloce e discorsivo, il secondo sarà un po' più lunghetto e di analisi. Quindi ho deciso di farvi partire con quello un po' più digeribile per poi farvi arrivare verso sera magari con un po' più di tempo a disposizione, post lavoro, post studio, in palestra, durante una corsetta, quello che volete, a ragionare sulla stagione della Juventus un po' più nel dettaglio. Oggi invece voglio parlare di quelli che sono i contratti relativi ad alcuni giocatori in scadenza perché noi ne abbiamo parlato subito dopo la partita, è giusto così, dopo la partita si parla della partita, il giorno dopo la partita si fa l'analisi della partita, però all'Olimpico Roma-Juventus ci sono state delle parole importanti di due tesserati della Juventus a proposito del futuro di due giocatori della Juventus. Sono parole rilasciate da Zon e mi aggancio un attimo alla parola da Zon perché l'altro giorno ho ricevuto un commento poco simpatico, diciamo così, quindi voglio cercare di tornare un attimino su questo discorso. Il commento diceva che in questo momento io sto facendo passare tutto come normale quando in realtà c'è una sorta di congiura contro la Juventus e non dovrei far passare tutto per normale, non dovrei continuare a parlare di calcio, dovrei semplicemente invitare tutti a disdire per cercare di mettere i bastoni tra le ruote a chi vuole il male della Juventus. E si intimava di fare questa cosa perché se no sarei stato smascherato, dato che a quanto pare non voglio il bene della società, non voglio il bene della squadra per cui tifo. Partendo dal presupposto che credo di aver dimostrato in più di un'occasione il mio attaccamento alla Juventus, quindi questo credo che sia abbastanza fuori discussione, in seconda battuta voglio arrivo a dire che io mi sono già espresso sulla sentenza, ho già detto tutto quello che pensavo e ora dobbiamo soltanto aspettare l'esito del ricorso, non c'è altro da fare. Sulla questione di sdette anche qui ho fatto due video, ho specificato nel primo un po' più velocemente, nel secondo più nel dettaglio cercando anche una sorta di alternativa e spiegando perché questa alternativa non è possibile, ovviamente rimanendo all'interno di un territorio legale, ho anche già spiegato che su una sorta di protesta pacifica io sono anche d'accordo e ci sono degli elementi che mi portano a dire che mi piacerebbe unirmi a questa iniziativa, non tanto per le pay tv perché secondo me le pay tv non hanno assolutamente nessun problema quanto per il sistema calcio in Italia, che secondo me in questo momento avrebbe bisogno di una bella ammazzata per fare capire che certe cose non vanno bene così come sono e questo momento della Juventus potrebbe anche essere il momento giusto per andare in quella direzione lì. Ho già spiegato come a livello lavorativo questa cosa mi è impossibile e quindi credo che sia anche uno inutile e due anche abbastanza stupido, passatemi il termine, continuare a chiedere a chi per lavoro deve utilizzare uno strumento di non utilizzare più quello strumento e invitare le persone a non utilizzarlo più, perché in prima persona io non posso farlo e perché ognuno è libero di decidere, di fare quello che vuole, di avere un abbonamento, di non avere l'abbonamento, di combattere questa battaglia anche se la vera battaglia non la combatte il tifoso, il tifoso può decidere perché è suo sacrosanto diritto se guardare o meno le partite all'interno di un campionato che per forza di cosa mi viene a dire che è stato falsato con un processo di questo tipo, con questa velocità, con questi elementi nel bel mezzo della competizione, ma la battaglia vera la fanno gli avvocati da Juventus, non la fanno i tifosi. Noi abbiamo il potere nelle mani, perché il tifoso ha il potere nelle mani, perché se da domani decidiamo di non guardare più il calcio in Italia, il calcio in Italia muore, perché siamo noi che facciamo andare avanti il calcio e non dimentichiamocelo mai, abbiamo una grossa forza, un grosso potere, un grande potere di Rio, un grande responsabilità, ma io in primis ho già spiegato tutti i motivi per cui non posso aderire alla protesta e mi dispiace tanto perché ci sono dei punti che condivido al 100%. Lasciando da parte questa premessa che secondo me era doverosa perché, sapete, intanto ci sono quei commenti che devono essere controbattuti, perché sennò sembra che uno se ne sbatta, non è così. Vi invito a recuperare tutti i video precedenti in web paraudio e queste cose. Partirei dalle parole di Rabiot, che sono state le seconde pronunciate. È importante la Champions League, dice Rabiot. Voglio giocare ad alti livelli le migliori competizioni. La Champions è importante, ma possiamo raggiungerla tra Europa League e campionato, dove abbiamo ancora possibilità di qualificarci. Sì, sarà un punto importante per decidere del mio futuro. Barzagli dice, scherzando, vabbè, non conosce bene la lingua, detto certe cose, ovviamente scherzando, ridendo, avendo capito che comunque Rabiot ha messo un punto, un paletto. Abbiamo detto fino adesso che la Juventus oggi difficilmente sta cercando di portare avanti dei dialoghi con i calciatori, proprio perché non sappiamo ancora che cosa accadrà la Juventus l'anno prossimo, dove giocherà, quale sarà la competizione. Appunto, aspettiamo l'esito di ricorso per capirlo e aspettiamo il processo relativo agli stipendi, che sarà una grossa gatta da appelare anche quello, più di quello legato alle plusvalenze. Eppur si muove perché Danilo ha già rinnovato, è ufficiale, perché Alexandro va verso il rinnovo, ci siamo quasi, si sta lavorando anche perché c'è una clausola. Rabiot ha parlato del suo futuro, la Juventus e la mamma, la gente di Rabiot, si erano già incontrate, ma poi non si era detto niente. E c'è un altro rinnovo che sta andando avanti, non quello di Quadrado, che molto probabilmente andrà a completare il suo percorso la Juventus, quella col Toro è stata la sua 350esima gara in Serie A. Stiamo parlando di un giocatore che è vicino alle 300 presenze con la maglia della Juventus in totale, quindi un giocatore che ha sicuramente fatto la storia per tanti anni della Juventus, ma ora si è arrivati a un punto di non ritorno. Quadrado non sarà, con tutta la probabilità, un giocatore da Juventus l'anno prossimo. E poi Calvo ha parlato ai microfoni e ha detto delle cose molto interessanti. Da italiano che ha vissuto anni all'estero, sono sorpreso, quando leggiamo sui giornali, di queste notizie che dovrebbero essere coperti da vincolo. E stanno parlando dello stipendio di Dybala, dei soldi che l'Eventus dovrebbe ancora Dybala. E dice che tutti questi atti che sono usciti sui giornali sono in mano ai nostri avvocati, ma ci tengo a sottolineare che nessun atto è stato vagliato dai giudici. I giudizi si fanno in tribunale. Tradotto, tutto a questa ondata mediatica contro la Juventus è inspiegabile. È un fatto tipicamente italiano. E io sono d'accordo. Tante volte qui sul canale ho ribadito che durante questo momento della Juventus, a maggior ragione quando si giocava al Mondiale, quindi non si poteva parlare di calcio giocato, si era spinto troppo sull'acceleratore, si era andati a creare un clima sicuramente non aperto al dialogo, non aperto a un giudizio, si era già fatto il processo, si erano già tirate le conclusioni, non si era ancora capito il perché, non si era ancora capito il per come, bastavano delle intercettazioni, bastavano delle notizie riportate anche solo parzialmente e l'opinione pubblica aveva già tirato le conclusioni. Non è così, non si fa così. Anche l'altro giorno, sentendo le parole di Torsello che dice la giustizia sportiva deve essere celere, veloce, bisogna agire, mi fa scappare da ridere, mi fa scappare da ridere. Se una parola giustizia avrà ancora un peso importante, sarà non celere, ma giusta. non importa il tempo, importa che sia giusto, perché se c'è un regolamento va analizzato il regolamento e non mischiate un po' le carte per arrivare poi a quella pena lì, perché l'impressione è che si sia partiti dalla pena e poi si sia ricostruiti indietro a seconda degli elementi che si avevano a disposizione. Questa è un po' l'impressione che ho e cercando di capire anche le motivazioni che la Juventus dovrebbe aver presentato, secondo me si va in quella direzione lì. E quindi questo sarà un processo farsa sia nelle motivazioni sia nel ricorso, perché la Juventus sta utilizzando la stessa arma che hanno utilizzato loro, no? Non sta cercando di far capire che no. Voi avete detto che è così perché è colà, allora noi diciamo che è colà perché è così. Sembra di aver capito che sarà una roba di questo tipo, vediamo che cosa succede, ma sono completamente e totalmente d'accordo con le parole di Calvo quando dice che certe cose non dovrebbero finire sui giornali quando c'è ancora un processo o un ricorso da avere, ma se ne dovrebbe parlare poi in una seconda battuta. E poi dice, con Di Maria stiamo parlando per il rinnovo. Sono delle negoziazioni che facciamo comunque dietro le quinte, come per Danilo. Appena ci saranno notizie ufficiali le annunceremo. Siamo fiduciosi, stiamo parlando con il giocatore. Eh, sono parole importanti. Sono parole che arrivano il giorno dopo rispetto alla stessa domanda che era stata fatta da Allegra in conferenza stampa dove dice, oggi la Juve non ha questa priorità, nonostante il rinnovo di Danilo, sul ragazzo non posso farci niente, è un giocatore importante, anche Calvo ha sottolineato, è un leader tecnico, carismatico, è un punto di riferimento per la squadra, ma Allegri se ne era un po' lavato le mani, mi ha detto, vabbè ma adesso, no sicuramente no, invece Calvo, i microfoni, comunque noi ne stiamo parlando. E mi è sembrata, vi invito anche a riascoltare le parole di Calvo, mi è sembrata una sicurezza, mi ha trasmesso talmente tanta sicurezza che sembrava quasi che fossero a un passo da poter firmare il rinnovo. Guarda Angel, questo è il contratto, fatti la firmina. E poi abbiamo già fatto tutto, abbiamo già concluso tutto. Non so se effettivamente è così, oppure c'è qualcosa di più, nel senso abbiamo aperto le contrattazioni, non so se per Di Maria la Champions, come per Rabiot, sarà necessaria, forse no, perché comunque lui l'ha già vinta, vuole tornare in Argentina, vuole cercare di concludere la carriera, magari un ultimo anno, senza particolari pressioni, senza magari nemmeno competizioni europee, per provare a vincere un campionato come quello italiano, se lo farebbe volentieri, ha maggior ragione, perché magari l'unica stagione che ha fatto la Juve non l'ha potuta vivere intensamente dal punto di vista sportivo per quello che è capitato in mezzo e che ormai sta rovinando l'annata della Juventus. Ma dell'annata della Juventus voglio parlarvi. Oggi pomeriggio in un video un po' più dettagliato in cui vi spiego, filo per segno, la mia posizione in ordine cronologico rispetto a quello che è successo. Andiamo a farci un po' ripercorrere tutto il percorso che abbiamo fatto in quest'annata, collegandoci anche a un po' di sensazioni iniziali. A oggi pomeriggio.